. . . . . . . ma per te Vieni qua! 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 È un tempo che la vedevo la Berlini? Cosa c'è? Ciao Vittorio! Vieni qua! Vieni qua! Che zè! Sempre gli occhi! Non ci vieni! Non ci vieni! Non ci vieni! Non ce la faccio! Allora! Ma come fai? Ma che cos'è? Non ci vieni! Sbagliata! Ancora! 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 È la prossima diattormente! È la prossima diattormente! Ma un compleanno Bianca! Attenzione! È lo scherito! È la prossima diattora! È la prossima diattora! È la prossima diattora! È un scena! È un scena! È un scena! È un scena! No vabbè, non lo sento, non lo sento, non lo sento, non lo sento. E' arrivato un genetico con il deppermio cellulare che lei voleva, e gli ha detto, vincaccio questo cellulare, e poi le hanno regalato. Ah, addirittura. Ma cosa stai facendo? Obiettivo, obiettivo? Eh, video credo. E' da tre ore che sto facendo un video. Ah, è proprio un video. Troppo bello, a vedere la gente che si mette in posizione, sta facendo. Scusate. Eh, eh, eh? Nessuno ha capito che è un video. Questa, questa mi chiamata. Non quella, in più. Non c'è la mia. Va a vedere? Bella. Me la manca. Bella. Venite tu. Mirko. Mirko, tutti i maschi. Mirko, come fa? Mirko, come fa? Mirko, come fa? No, 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 no. Dai. Dai, sono capace di casa. Mirko, come fa? 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 Erdo. Anto, mi ti raccomandola. Mi raccomandola. C'è un video? Mi raccomandola. Sì? Devo filmarvi. Questa è bella. Questa è bella. Questa è bella. Questa è bella. Mi raccomandola. Non c'è cosa faccia. Questa faccia. No, 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 no. No, no, no. Venti, qui. Allora, com'è? Com'è? Bianca! Un'occhiata, un'occhiata! 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 Che vuoi? Chi è stato? Deve indovinare qui! Come si fa? Un'occhiata! Ma, se sei a segura? Ma, se sei a segura? Ma, se sei a segura? Non lo so ora che... Ma cosa fa? Il quadratino rosso, non dovrebbe uscire verde! E' a poco! Fammi vedere! No, non ti faccio la foto! Dimmi tutto Bianca! Cosa stai facendo? Il video! Guardala! Muovevate un pochino! Non è una foto, è un video per parlare! Dimmi tutto! Vada a cagare il disco! Mi ringrazio a tutti! Per la bella sera che sto passando, vi voglio avere sempre la foto Bianca! Una cosa la dobbiamo fare! Allora! No, per la perigo! Io gliel'ho ricordato che non c'eri e ti saluta! Noniii! Ti voglio un bello della Madonna! Hai visto? Ciao! E' niente! Ho almeno un altro milanista come me! Esatto! E adesso la di Feo! E non c'è neanche lei! Paoletta, guarda chi sta vicino, mi invidi un pochetto, ti voglio bene, ci vediamo venerdì, guarisci presto, ciao! Ecco perché non mi rispondeva più la defesa del tempo. Ecco, a tempo. Per tutti. Dolci? Un attimo, che impegnata. Vabbè le foto, le foto c'è dolce. C'è dolce, le devo prendere i coglioni. Non pregare nessuno, esatto. Vabbè io sono per un tiramisù, dai. Un tiramisù. Ce l'ha fatta sedermi ragazzi. Ecco la decisione della coppia che vuole prendere il dolce. Che dolce vuole? Non lo so, andiamo. Merengata. Merengata. La moglie, la moglie, attenzione. Sempre indecisi. La moglie ha già passato 5 secondi. Crema catalana. Crema catalana, ce l'abbiamo fatta. Sì. Ok ragazzi. Tirami su, perché sai com'è. Vittorio. Eh sì, ho capito, stavi guardando l'altra parte del tavolo. C'è molto un problema. C'è più quello. C'è messo un po' anima. Grazie. Ciao Nadia. Nadia visto che non siamo messi in distanza. E' sempre uguale la. Solita rotola di valle. Ok ora non siamo al lavoro, dai. Sorriso per la stampa? No si rompe delle case, si rompe tutto lì. No mai non sei rotto, funziona ancora, hai capito? Se faccio un sorriso. Mi torna con me, funziona, funziona. Basta che non mi pubblichi da qualche parte. Troppo tardi. Ah! Ehi. 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 prima di accoltellarvi dici la foto troviamo la calma attenzione che andremo ancora al cinema insieme ma non lo so non lo so se ci andiamo perché è fuori di ballare di kebab infatti ok non so che era una rottura di balle quel film quello che sono andati a vedere e quale che era? ti ricordi di più? pezzi? no non era pezzo quello prima quello che? la merita sta in cielo ah si è questo marcio ho capito qual è quello della mafia allora che si stava diventando se ci stavano diventando la salata non è pezzo mi fa piacere ma che mi fa piacere? ma che mi fa piacere? ma che mi fa piacere? ma adesso che fa? ma non faccio niente ma perché io poi faccio il mio piegno ma che non faccio il mio piegno? ma che non faccio il mio piegno? ciao a tutti ragazzi a questo punto più l'oro di bianca aspettiamo il dolce